Sai perché ho comprato i fagioli? Perché nessuno li cucina come li cucino io. Forse quando sarai tornato lassù in mezzo alle tue costellazioni ti dimenticherai tutto della terra, ma i miei fagioli te li ricorderai. Ecco. Hai fame? Bene. Adesso accenniamo il fuoco. Capitano! Senza far rumore! Ci vorrebbero Staglio e Olio. Chi sono Staglio e Olio? Già, tu non li puoi conoscere. Beh, quando ero bambino io me la facevo sotto dalle risate quando andavo a vedere Staglio e Olio. Insomma, mi dici chi erano? Stan Laurel e Oliver Hardy erano due attori del cinema. Olio era grosso come me e Staglio era magro, magro come uno stecchino. Quando Olio non riusciva a accendere il fuoco, Staglio chiudeva il pollice destro dentro il palmo della mano, in questo modo, e lo tirava fuori acceso come un fiammifero, così. Guarda che non ti devi mica preoccupare. Ma che diavolo mi succede? Niente, niente. Adesso ti spiego. È soltanto una spruzzatina di energia biomagnetica che ti è venuta addosso mentre eravamo in macchina. Ma non dura tanto. Non sei contento? Adesso sei uno sceriffo extraterrestre. Poco extra e molto terrestre.